Musica Ben trovati tre spettatori di TV6 e l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 21 dicembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che su diverse regioni del territorio italiano avremo condizioni di instabilità con possibilità di piogge o rovesci. La ventilazione media proverrà dai quadranti meridionali e i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi, mentre per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature risulteranno in generale aumento su tutto il territorio. Nel dettaglio, il mattino sulla nostra regione avremo condizioni di tempo instabile con possibilità di deboli piogge soprattutto nelle zone interne e nel terramano. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche miglioreranno velocemente sul versante orientale della nostra regione, mentre rimarranno deboli piogge nelle zone interne. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.